Mr. Criscuolo una vittoria sofferta ma meritata quella contro il forte Faiano. Dopo un ottimo primo tempo la squadra ha subito uno sbandamento nella parte iniziale della ripresa per poi riuscire ad ottenere questi tre punti. Come legge questa partita a due facce dei suoi ragazzi? Sì, infatti abbiamo fatto un ottimo primo tempo, il secondo tempo abbiamo iniziato un po' sotto tonno, il secondo tempo forse dal risultato di 2 a 0 che abbiamo visto il primo tempo pensavamo che la partita era già finita. Abbiamo fatto degli errori sul lato nostro sinistro che ci hanno condannato al pareggio, diciamo due gol simili alla fine, però alla fine è uscito fuori il carattere di questa squadra, la voglia di portare a casa i tre punti. Purtroppo questo è un campionato difficilissimo, noi dobbiamo stare solo tranquilli e non fare quei 20 minuti del secondo tempo dove esce la paura di vincere la partita là. Però fortunatamente i ragazzi sono stati bravi a ribaltare il risultato di 1. Lei poi ha ribaltato, ha cambiato un po' la situazione mettendo i soldi sulla corsia sinistra e anche Trimarco. E' sostituzione che forse poteva fare qualche minuto prima, ci ha pensato? No, credo che sia vitale che Trimarco durante la settimana non si sono allenati, uno per un problema al tallone e un altro per un problema alla caviglia, quindi preferivo non rischiare sul 2-0 nostro alla fine. Poi la partita si è messa un po', abbiamo fatto due gol e poi alla fine ho deciso di rischiare Trimarco che ha giocato con una caviglia un po' gonfia. L'importante è che abbiamo raggiunto il risultato, è importante continuare la striscia positiva come stiamo facendo. Sabato si va a Ponte Cagnano sul campo della Picciola, altra squadra sicuramente interessante. Sì, un altro campo difficile, il campo di terra dove ci può condizionare un po', però sappiamo benissimo che il campo di terra e il campo in erba dobbiamo avere sempre il carattere giusto per affrontare queste partite. Questo è un campionato difficilissimo dove ci sono tutte buone squadre che possono dire la loro. Noi fortunatamente ad oggi abbiamo fatto quattro partite, otto punti, abbiamo ripotecato il passaggio di Coppa. La strada è quella giusta, dobbiamo migliorare soltanto un po' sul piano del gioco e soprattutto sul carattere. Il carattere ci vuole per 90 e più, non per 45 minuti, perché il secondo tempo, come avete detto voi, abbiamo abbassato l'attenzione e quindi abbiamo fatto rientrare in partita il Faiano, però abbiamo fatto un'ottima partita. Questa coppia che è in testa, Audax-Cervinare-Agropoli, sono le squadre da battere su cui dovrà fare attenzione il Valdiano. Sì, ci sono diverse squadre, ripeto, noi dobbiamo fare il nostro cammino partita dopo partita. Ad oggi il Valdiano sta facendo il campionato che deve fare e l'unica cosa, ripeto, per fare il salto bisogna avere il carattere per 90 e più e durante la settimana bisogna allenarsi sempre con la massima concentrazione e cattiveria che poi la domenica ce la portiamo in campo. Loro si allenano bene e oggi hanno dimostrato di avere carattere perché non tutte le squadre, dopo sul 2-0, due pari, riuscivano a ribaltare di nuovo il risultato. Noi siamo stati bravi e va un applauso soprattutto a loro. Mister Turco, ci ha creduto di portare un risultato positivo da questa trasferta sul campo del Valdiano a Casalbono? Sì, sì, perché noi siamo partiti un po' così a rilento nel primo tempo, abbiamo fatto qualche errore di posizione sul primo gol, abbiamo regalato il secondo su delle uscite, onestamente dove di donna ho visto il nostro difensore centrale stare a centro campo, abbiamo fatto qualche errore di troppo nel primo tempo, poi cambiando le carte in tavola eravamo riusciti a rimettere la partita sui binari giusti. Poi parlavamo adesso con i miei collaboratori, probabilmente con un po' più di attenzione, con un po' più di cinismo, perché abbiamo avuto pure qualche occasione addirittura per portarci in vantaggio. Però questa è una squadra giovanissima, questa è una squadra che deve fare esperienza in questo campionato e probabilmente questa partita ci sarà utile per il futuro, non abbiamo preso punti oggi, però ho visto una squadra che nel secondo tempo si è catapultata in avanti, voleva fortemente recuperare il risultato e questo deve essere la base su cui costruire qualcosa di più importante. Lei ha azzeccato le due sostituzioni a termine del primo tempo e sono stati proprio gli uomini che hanno determinato il momentaneo pareggio, anzi Mazza ha avuto anche la palla del possibile sorpasso. Poi nel finale, come ha detto lei, è venuta meno forse l'esperienza. Complimenti perché la sua squadra è una squadra di giovani, soprattutto in panchina e tutta di Ander. Sì, grazie per i complimenti. È vero, noi abbiamo nel frangente, di solito noi ci affidiamo tantissimo a Giovanni Griechi in mezzo al campo, che è il nostro faro, purtroppo proprio nel momento topico, nel momento in cui ci doveva essere per forza il ritorno del Valdiano perché poi ha inserito Trimarco in attacco e noi eravamo già abbastanza stanchi e senza il nostro capitano in campo probabilmente abbiamo pagato lo scotto perché con Giovanni, Giovanni è un allenatore in campo, dà sempre il consiglio giusto, è questo che ci ha un po' penalizzato. Però cercheremo già da martedì di ripartire così come spesso facciamo, sperando poi di andare a cogliere qualche punto importante anche fuori casa. Domenica mattina c'è una gara difficile sul campo del San Vito Positano che nell'ultimo turno però ha rimediato una sonora sconfitta con un punteggio tennistico 6-1. Sì, ho visto la partita ieri ad Avellino, è vero che è una squadra che probabilmente ha sbagliato l'approccio però stranamente è una squadra che ha cercato anche di fare la partita, però l'Avellino in ogni ripartenza, in ogni giocata offensiva faceva gol, sono quelle partite strane perché poi il Positano ha giocatori importanti, una rossa importante, un allenatore importante quindi dovremmo stare attenti e non fidarci assolutamente di questo risultato anche perché noi non possiamo sottovalutare nessun avversario, ripeto, cercando di andare a cogliere qualche punto fuori casa.